Gli abbracci sinceri da veri fratelli tra Papa Francesco e Papa Tawadros II, Patriarca di Alessandria e guida della Chiesa Ortodossa Copta, durante la visita del Vescovo di Roma al Patriarcato Copto del Cairo, hanno segnato un momento che resterà storico nei rapporti tra le due Chiese, soprattutto per la dichiarazione comune in 12 punti firmata dopo i due discorsi. Nel paragrafo 11 il successore di San Pietro e quello di San Marco dichiarano che cercheranno in tutta sincerità di non ripetere il battesimo amministrato in una delle nostre Chiese ad alcuno che desideri ascriversi all'altra. L'impegno è quello di cancellare la pratica del ribattesimo, una ferita aperta nei rapporti tra le due Chiese che, come ha ricordato Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Egitto, è stata iniziata dai cattolici. Nei primi concili era lo stesso. Poi come i cristiani corti e battezzavano i bambini nelle santuari, quando volevano sposarsi venivano da noi, se sposavano una cattolica, le chiedevano la fede, non l'avevano e si faceva il battesimo sotto condizione. Ha incominciato con noi e non con loro. Ma adesso si è aperta la porta e siamo in un buon cammino. Di questo passo storico nel Cammino Ecumenico, che trova però alcune resistenze nelle comunità locali, parliamo con Monsignor Gabriel Quic, sacerdote belga che per il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani cura le relazioni con la Chiesa Copta Ortodossa e le altre Chiese Ortodosse orientali. Questo passo avanti è stato possibile grazie a questi due pastori che ci guidano, il Papa Francesco e il Papa Tavadros. Sicuramente possiamo realizzarci che questo cammino non sarà facile, però ci bisogna la pazienza perché noi qualche volta vogliamo correre in modo veloce, ma ci sono che non possono camminare così velocemente e sono un po' più lenti. La Decorazione Comune ci parla della via del Vangelo perché c'è soltanto un solo battesimo, un solo battesimo, una sola fede, un solo Cristo, un solo Spirito. Non possiamo dire dagli altri che il vostro battesimo non è il vero battesimo, come gli altri non possono dire da noi che il vostro battesimo non è valido. L'ecumenismo si fa in cammino, con le opere di carità, con le opere di aiutare a fare le cose insieme, quando si può fare insieme. Non esiste un ecumenismo statico. È vero che i teologi devono studiare e mettersi d'accordo, ma questo non sarà possibile che finisca bene se non si cammina. Siamo invitati a cercare insieme di andare avanti. Il battesimo è il punto di partenza di poter continuare la nostra strada comune. In arabo si dice «Hutwa bada hutwa». Passo dopo passo. Possiamo andare avanti e speriamo che l'unità si fa nel nostro cammino. Con Papa Tawadros ho un'amicizia speciale, ha confidato ai giornalisti Papa Francesco. Per me è un grande uomo di Dio che porterà avanti la Chiesa. E in ogni occasione il Vescovo di Roma manifesta la sua vicinanza. Ancora Monsignor Quic. Ogni volta quando c'era un attacco, per esempio quando i 21 copti erano decapitati alla costa di Libia, il Vescovo copto da Italia, Monsignor Barnaba, mi ha chiesto «Speriamo che il Papa darà un messaggio». E effettivamente il Papa ha dato un messaggio, ha telefonato il Papa Tawadros il giorno dopo. E con questi attacchi terribili, la Domenica delle Palme, allora il Papa ha inviato il Cardinal Koch e Monsignor Quic. Io ho potuto accompagnare il Cardinal Koch per presentare le condolianze. Il Papa Tawadros era molto commosso. Questo è l'equiminista del sangue perché, come il Papa ripeta frequentemente, la vostra sofferenza è la nostra sofferenza. Il sangue di tutti questi materi ci unisce.